Continua l'attività di contrasto allo spaccio di droga, in particolare quello di eroina, nell'area del parco Miralfiore di Pesaro e non solo. Dopo la maxi operazione di novembre denominata Centofiori, con la quale la polizia di Pesaro Urbino eseguì un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 19 nigeriani responsabili di almeno 500 episodi di cessione di stupefacenti all'interno del parco, questa volta la squadra mobile coordinata da Paolo Badioli ha concluso un'altra importante attività investigativa che ha consentito di individuare e bloccare un altro canale di approvvigionamento già utilizzato dai nigeriani precedentemente arrestati. Indagini che hanno consentito di individuare un'altra insospettabile coppia di nigeriani regolare sul territorio nazionale e residenti in una frazione di Montelabate. I due, un uomo e una donna, sono stati bloccati venerdì mattina all'uscita dell'abitazione che è stata sottoposta a perquisizione. In casa sono stati trovati 70 grammi di eroina confezionata in ovuli utilizzati per essere ingeriti e trasportati con la modalità bodypakers. In più, in casa c'era tutto il materiale utile al confezionamento delle dosi, oltre a 4.000 euro in contanti ritenuti proventi di attività di spaccio. Durante le indagini sono emersi anche elementi indiziari verso il fratello dell'uomo al quale è stata estesa dunque la perquisizione domiciliare, abitazione in cui sono stati trovati altri 330 grammi di eroina confezionata in dosi e riposta in uno spazio ricavato sotto il letto. I tre sono stati arrestati e reclusi nel carcere di Villa Fastigi. Questa mattina il Tribunale di Pesaro ha convalidato gli arresti disponendo la custodia cautelare in carcere per i due uomini e rimettendo in libertà la donna.